Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovissimo video di Clash Royale Subito un bel pollicione in su per me, per il vostro Jack E adesso iniziamo a giocare seriamente Vi faccio vedere il mio must Allora, oltre ad aver pompato un pochettino i livelli A parte la firepalla perché è cello di livello molto molto basso Non avendola mai utilizzata fino adesso Che potrei cambiare con una fulmine Che sono più abituato ad utilizzare Il must è con la domatrice Tra l'altro a livello 11 mi mancano solo 3 carte per portare a livello 12 Ho a livello già 12 sia il cacciatore che lo spirito del ghiaccio È un mazzo molto veloce, 3.3 di costo medio Ed è abbastanza aggressivo Non eccessivamente, ma è abbastanza aggressivo È un mazzo che punta a toccarti continuamente le torri Finché non te le sega Bene, direi È per questo che dico la fulmine Perché così se te le tocca abbastanza Con la fulmine è più facile buttare giù una torre Comunque, senza indugi, cominciamo subito Forse il volume è un po' altino Perfetto, dovrebbe andare giusto Allora, siamo contro Ares Non sono sicuro che voi vediate il nome Porca miseria, quanto sei cattivo Allora, vediamo subito di bloccare questi bei ragazzotti A livello 13 tra l'altro Quindi sarà un po' complicato Va bene, il mage mi va bene Io attacco dall'altra parte E vediamo come si difende Va bene, va bene Non mi serve esagerare Il mago lo schiantiamo così Vedete, una toccata gliel'ho fatta Mi basta Non devo fare altro Adesso quella mi scoccerebbe un po' Ma arrivasse a fare troppi danni Anche perché a livello 12 fa malissimo Fa veramente malissimo Comunque Siamo andati bene La prima girata è fatta Questo è un errore ragazzo mio Perché in questo modo tu non la puoi tirare Mentre io uso la dovatrice Ergo Adesso ce la dobbiamo prendere con molta, molta calma Si parte da dietro col cacciatore Il cacciatore e anche il cavaliere Se non sbaglio si chiama Sì E il cavaliere sono carte molto lente Molto, molto, molto lente Non c'è bisogno di aver fretta Allora Vediamo un po' cosa riusciamo a fare Ok, il tronchetto mi va bene Questo me ne dovrebbero shottare Perfetto Mago lo seguiamo così Buono Dai, tiragliele una Brava Oh, sì Ci godo tantissimo Ora Non è più necessario gli sgarri come prima Mi basta uno spiritallo del ghiaccio Per farla deviare verso il centro Bloccarla un attimo E la torre dovrebbe riuscire a tirarla giù Certo Perché? Perché te li lascio Te li lascio passare Loro Mmm, è interessante Dovrei riuscire a tenerlo Al massimo mi darà una schicchera o due No, no Morto Va bene Però lui ha dovuto usare Delle lisili in più Per riuscire a bloccarmi Ora Il mio problema è sempre La torre infernale Non so se lui temporeggerà come prima Perché quello è stato un errore Veramente grosso Da parte sua E ora Ora il mio problema sarà Attaccare in maniera efficace Attaccare in maniera efficace Significa riuscire ad evitare che La La sua La sua roba Mi distrugga La vita Esatto Eccola, eccola La stavo aspettando Non vedevo l'ora che tu la tirassi Questo te lo metto qua davanti E ripartiamo da dietro Il problema con il per due di lisir È che Lui potrebbe ciclarla tranquillamente Adesso se lui mi dà una schicchera Mi va benissimo Loro dietro Ops No, 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 no Non ci provare Non ci provare Mini piccolo Mini peccolo Boom Giù questo E attacchiamo Spero non abbia l'elisir Ce l'ha l'elisir Fa niente Speriamo di riuscire ad arrivare A fare qualche danno Non credo Quindi mi sa che Me la devo giustrare di Fireball Mi sa che mi toccherà giustrarla di Fireball tantissimo E stare molto, molto, molto sulla difensiva Infatti sto girando a destra Bravo, bravo Mi piace quel mago lì Mi piace E adesso ti tiro delle Fireball Che hai 200 danni alla volta Te ne devo tirar 5 E poi ti ho tirato giù A fucking torre Sto sempre dietro Che non voglio ricevere danni inutili Mi va bene Giù di qua Questo qua Prenderò delle sberle Prenderò tante sberle Però Ah, mi ha segato la torre Non ci voleva Puttana Sua sorella Eh, mi ha cambiato tattica al volo E io ho sprecato il Cavaliere Ho sprecato tantissimo elisir inutilmente È stato molto, molto bravo lui Va bene Prima andata Vediamo la seconda Devo stare attento Perché questo mazzo è leggero Ma come spendi l'elisir Cambia veramente la partita Livello 10 Wan Wan Si chiama Wan Non so perché Gli piaceranno i camion Vabbè, scusate Dilemma Dilemma Vabbè Una Fireball Guardate la tiro Che tanto Ci ho guadagnato Almeno non è di livello 12 Come quello di prima Che Insomma Gran Cavaliere Di Gran Ceppa di Minchia Zap subito Va bene Bam Va bene Dovrei riuscire a tenerlo Sì Senza problemi Forse mi rimane anche vita Velocissima lei Perfetto È in vantaggio Su di lui Oh Ma perché loro Va bene Va bene Va bene Tanto picchiano lei E Buono Il mini pecca Buono Non lo difenderei Quasi Difendo quella là davanti Che mi dà fastidio Va bene Due Due botte Più Quelle del cosa Io riparto di mini Forse è una cagata Infatti è una mezza No Perché ho miscliccato Mi scliccato la Mi scliccato la Zap Sono uno stronzo Sono uno stronzo Che figura di merda Che figura di merda Scusatemi Sono Sono emozionato È un po' che non gioco E Ho fatto una Bella figuraccia Allora Il Gran Cavaliere gestibile Sono un attimo Interdetto Mi scusi Cosa Cosa minchia C'entra Quella carta In sto mazzo Gran Cavaliere Me l'aspettavo E bam Mi sta bene No Perché Mi hai dovuto Segare quella Va bene Va bene Niente di particolare Sono riuscito A fargli sopravvivere Cioè Sono riuscito Ad evitare i danni Mini pecca Ignorante Buongiorno Squat Lui mi tirerà l'orda Di scheletrini No Si lascia beccare Delle botte Veramente importanti Due Due schicchere Sono Cioè Per me Io ti adoro Ora Come cacchio Faccio Vabbè Prima mi devo porre Il problema Di come cavare loro Poi dopo Mi pongo il problema Di come cavare lei Buongiorno Forse ho speso un po' troppo Però Adesso Mi sa che scatta Il controattacco Quello proprio Bello pesante Va bene Va benissimo Va benissimo Spiritello Quella la la devo difendere Va bene Va bene E' stato bravo E' stato bravo C'è niente da dire E Lui Non so come difenderlo Così Così E Porca puttana Di tua sorella Difendiamo qua Va bene Portali in centro Te Eh vabbè Sono troppo forti Cazzo C'hanno dei livelli Veramente troppo alti Non posso gestire Delle carte al 13 A prescindere Cioè vedete qual è Il mio problema Il mio problema E' che ho I barbari scelti al 13 Per poterli fermare Io devo spendere Molto l'isir Se forse ero già al 12 Il mini pecca Uno lo stronca Prima che arrivi L'atore Perché non fanno così male Ed è il problema Il mio attuale livello Un po' Non sto giocando benissimo Va bene Potete dirlo tranquillamente Che sono una mezza pippa In questo momento Ma proviamo a fare Un cambio tattico Come avevo detto prima Secondo me La firepalla Non è così efficace Perché E' veramente di livello Molto basso Quindi aggiungo La fulmine E' buono Mobizen Devo cambiare una carta E' il programma Di registrazione Vabbè Qua doniamo Proviamo Poi tra l'altro Mi manca una coppa Una corona Per fare Il livello successivo Delle torri Cioè Della Della questione Non lo avete capito Bene No Non dirmi che è un cycling Domatore Io li odio Vaffanculo No Non è un cycling Attenzione Va bene Tanto lui Lo fermo Poi tra l'altro È di livello Molto basso Va bene Io mi Prepongo Di fare Il mio attacco Questo è uno Che ha dei problemi Ehm Ok Penso debba fare Una quest Perché Altrimenti Non capisco Perché Qual è Il senso logico Di questo mazzo Non capisco Vaffanculo Tella Toscarica Dovrà fare Una quest Perché Altrimenti Veramente Non Non riesco A A comprendere I motivi Dei pipistrelli Livello 1 Deve giocare Delle carte Che costano 2 o meno E allora Perché C'ha messo Il domatore Però Che mi sa Che è così Ehm Sono un attimo Basito Vaffanculo Ecco Vedete Qui Questa In caso Di perdo Edilisir E' molto Comoda Mi sta Anche bene Direi Parto da Dietro Il domatore Che arriverà Tra un po' Sulla sinistra Bravo Me lo fermo Così Paff Paff Vedete Questo è Di livello Molto più Basso Ed è livello 11 Comunque Di tor Quindi Non si capisce Niente Non so Perché Mi sta Bene Mi piacerebbe Attaccare Ma Vabbè Lui si fa Tranquillissimamente Distruggere la vita Va bene Va bene Però sappi che Quella l'hai persa E adesso io ho La domatrice Ciao amico Come tu sta Con Vabbè Giusto che c'è anche Quel coso lì Che tanto So già che lui Buongiorno Va bene Non è un grosso problema Wow I danni I danni Incredibili Della vita Buongiorno Che partita Interessante Che vi propongo Boom Tutta da giù Non passi Tiro anche Il mini pecca Proprio perché Sono un po' Bastardo Vabbè Però mi ha fatto Dei danni Bisogna stare attenti Qui Bisogna stare Veramente Molto attenti Ok E' il momento Di inserirsi In maniera Drammatica Ed è il momento Di evitare Che mi segui La torre Ma non ci riesco Mi tocca Vincerla così Che fastidio Che fastidio Che fastidio Vabbè Ho comunque Il per due Adesso Basta trovare La ciclata giusta Basta trovare La ciclata giusta Adesso con calma Con molta calma Tiro le carte Dietro Non ho fretta Non ho fretta Questa Tra la chi tutta Fanculo Ok Non è passato Qua Qua Sei stupido Perché? Perché esiste Sta gente? No Fermo Prima di tirar cose Di cui me ne pento A posto Finito Non ho capito What the fuck Vabbè Comunque Yee ho vinto Wow Contro che sa giocare Sono un po' triste In questo caso Ma perché? Ma che problemi hanno? Bene Prendiamoci il baulosso Incredibile Della vita Zero Te non mi servi Te non mi servi Che per 7 Questo lo posso scambiare Volendo 39 di loro Faceva cagare uguale Comunque Sono solo a livello 11 Direi che Per oggi finiamo qua So che l'ultima partita È stata un po' Una merda Ma Ci fermiamo qua Bene ragazzi Spero che l'appuntamento Vi sia piaciuto Vi invito a lasciare un like Darmi dei consigli Per le modifiche del mazzo Sono aperto a tutto Tante discussioni E cose La prossima volta Vi farò vedere Un mazzo molto più interessante Che mi ha portato Più o meno A questo livello di coppe Basato su Proprio Le entrate ignorante Che se ti tocco La torre esplode Comunque Detto questo Like Condivisione Iscrizione Spero di rivedervi Nel prossimo episodio Ciao a tutti Ciao a tutti